Hello guys, benvenuti in questo nuovo video, oggi vi posto la decklist che ho portata all'ultimo torneo che abbiamo svolto qui in zona e che sorpresa, drago non l'avrei mai detto una delle decklist spiamate del canale e anche uno dei miei mazzi preferiti se non nel mio archetipo potremmo definirlo preferito il mazzo drago come ben sapete diciamo che questa lista l'ho un po' improvvisata all'ultimo, a parte qualche carta avevo già intenzione di giocarne alcune perché diciamo sono sceso appunto qui giù a sud da Roma e ho provato questa decklist parlando del torneo eravamo in pochi ma vi descrivo brevemente com'è stata la situazione primo turno l'Iceworn, vinto 2-0 di cui il primo turno praticamente ho visto subito i draghi ciccioni quindi ho calato Red Ice e il drago Notte Bianca affinché non potesse diciamo calare troppa roba al cimitero tramite brigata e tutte le cose sue ed evitare appunto il JD mentre il secondo game praticamente lo vinco grazie alla Starlight avevo di nuovo il Red Ice e il drago Notte Bianca in campo ma avevo anche settato una Starlight che praticamente ha costretto giustamente il Judgement Dragon ad attivare il suo effetto io ho fatto Starlight e poi praticamente l'ho chiuso dato che ho evocato anche il drago Kakimeru essendo anche la Sentinella Negro mi pare rimosso o quantomeno non fosse nel cimitero ho potuto chiudere in tutta tranquillità il game secondo turno contro Quickdraw Frog Monarch combattuto all'inizio ma poi vedo diciamo le carte che mi servivano per chiudere la partita quindi togliendo anche le Duke Frog e riuscendo a tutti cappare secondo game invece molto disperato da entrambe le parti perché nessuno dei due riesce a vedere mostri o quantomeno non appena veniva calato un mostro veniva subito tolto dal terreno in un certo senso riesco anche a fare Trap Dust Shot sul Gords ma diciamo gli arriva il Monarca in tempo io non riesco a scalare quindi mi becco 2-4 in continuazione e non vedo trappole quindi ultimo game interrompiamo il torneo perché dobbiamo andare a pranzare e vinco praticamente poi a tavolino perché doveva andare a giocare a calcetto non sto mevando per davvero doveva andare a giocare a calcetto quindi doveva tornare a casa sua per poter andare a giocare e quindi vinco la partita così 2-1 terzo turno invece becco Gridkeeper che potreste dire ah easy contro Gridkeeper non è T1 dovresti vincere facilmente a vedere le carte quindi ho vinto 2-1 la prima la vinco io perché riesco a vedere fusione futura e soprattutto l'avversario non riesce a vedere Necrovalle la seconda praticamente non vedo nulla e mi becco 4000 di danno dai custodi di tombe pompati dalla Necrovalle mentre la terza riesco a chiuderla anche velocemente perché lui non vede trappole io gli calo diciamo il Drago Kokimeru più altri draghi di conseguenza riesco ad andargli sopra e a concludere la partita prima che potesse avere le risorse necessarie per mettermi in difficoltà dopo anche una Tempesta Potente che è praticamente un po' rischiosa però gli ho fatto un bel meno 2 potente dopo tutto Tempesta Potente che fai? ultimo game quarto turno contro Kiro Kiro Beat del nostro amico Tende Shogun e qui lo riesco a vincere la 2-0 riesco a vedere la side di conseguenza riesco anche a vincere dopo il primo game ma fatica anche il secondo game dato che lui un po' bricca e non vede alcun mostro e nemmeno trappole quindi prima di passare alla profile se ti piacciono contenuti di Time Wizard come Edison, Tenguplant, Hutt o anche unboxing di prodotti anche abbastanza vecchiotti e nell'ultimo periodo se ti piace anche One Piece iscriviti al canale, lascia un mi piace e un commento costa pochissimo del tuo tempo ma contribuirà in maniera sostanziale al mio canale e ai miei progetti quindi grazie di cuore caso che vogliate farlo continuando abbiamo quindi la nostra lista quindi 3 ovviamente Metallici Oscuri 3 Viverne 3 Kimeiru Drago poi sono passato a 2 Masked Dragon che è una cosa che volevo fare già da tempo anche se potrebbero cozzare un pochettino con la filosofia di questa decklist dato che come target abbiamo vabbè 2 Draghi Totem il Drago Esplosivo e poi un po' Touch Me il Drago Magno il Drago Magno anzi in italiano che diciamo ci sblocca un po' alcune giocate per evitare diciamo di non giocare l'extra deck perché obiettivamente potreste giocare il Drago anche senza extra deck tralasciando ovviamente il Chimeratech e soprattutto il Drago a 5 teste comunque con lui paradossalmente possiamo farci un sacco di cosine non si becca nemmeno Bottomless e Tuner ovviamente quindi ci permette di avere più varietà all'interno del mazzo ma soprattutto ci saranno delle carte di extra deck che contribuiranno a sfruttare ancora meglio l'extra deck ma anche a ridurre la quantità di brick e fra poco lo vedremo poi i Draghi Ciccioni gioco il Parmalat e il Drago Notte Bianca lui alcuni non lo gioco e io preferisco sempre giocarlo perché per me è troppo forte e Icaro praticamente te lo para GD te lo para Rico te lo para e soprattutto possiamo fare anche un piccolo spam di 6 e 2 8 e ricalarci lui in caso che dovessimo avere 2 dice quindi ci permette di avere accesso anche i Syncron 8 che non ci fanno schifo in questo formato e poi sono passato a giocare 3 Warrior Lady che potreste anche giocare a 2 stavolta vi ho detto mi sono dovuto un po' arrangiare all'ultimo e ho deciso di provarla a 3 non mi è dispiaciuta e mi sono trovato anche bene soprattutto per il side quindi andavo non sempre però molte volte andavo a toglierne una più la rota che tra poco vedrete quindi giocavo 2 Warrior Lady o diciamo in base al matchup che avevo contro 3 non mi sono dispiaciute sono molto forti soprattutto come contro Hero per esempio che gli va a rimuovere i target appunto per fare la fusione miracole e grazie a questa carta quello appunto ha anche vinto l'ultimo match contro Hero dato che io ho praticamente rimosso quasi tutto li ho visti subito che fa i nulli giochi poi per l'espello abbiamo 2 Sarcofagi la fusione futura motivo per cui esiste questo mazzo la rota come vi dicevo aiuta a rendere il deck più consistente poi Tifone Ivy Storm Brain Control la carta praticamente più forte del formato secondo me Book of Moon che ho portato a 1 mi piace sempre giocarlo a 2 ho deciso di giocarlo in maniera leggermente diversa quindi andare un pochettino forse più su l'offensiva e qualche più varietà ecco di base tant'è che gioco per l'appunto un Mind Control e una fusione istantanea questa qualcuno potrebbe averla già vista in una delle mie vecchie decklist che ho dovuto rimuovere perché c'era una carta che a causa di Dueling Book me la dava giocabile in Edison ma in realtà non si poteva giocare per fortuna non l'ho mai calato in partite o tornei però per l'appunto meno male me ne sono corti in anticipo anche grazie a una segnalazione e ringrazio comunque questa diciamo è la carta che un po' ci permette di di avere più giocate all'interno del mazzo e sfruttare al meglio l'extra deck e anche controllamente è forte magari per toglierci che ne so lo Spirit Reaper che per chi gioca Drago sa benissimo che è una delle carte più cagacazzo così come qualsiasi carta che appunto è indistruttibile in battaglia veramente danno un sacco di fastidio e con questa qui magari possiamo togliere Hero o magari anche la Dupe Frog per esempio che possiamo sfruttarla per sincreare le carte che vogliamo insomma poi reparto ciccioso delle trappole due Bottomless due Prison ho deciso di giocare due Starlight Road perché volevo provarla appunto contro sia l'Ice Sworn ma anche contro Hero e mi son trovato bene anche perché con questo mazzo avendo un reparto molto molto compatto compatto avendo anche diciamo le evocazioni di draghi avere più copertura contro Icaro o ATT qualsiasi altro mazzo può aiutare un sacco poi gioco ATT Mirror Call of the Haunted il Solennone e vabbè la Dust Shot come sempre 41esima carta io lo sapete gioco quasi sempre a 41 carte extra deck ovviamente Drago a 5 teste un Chimeratech che gioca 1 dato che diciamo va ad occupare l'extra deck con alcune carte tra cui appunto il Drago del Fuoco Nero che per l'appunto è un ottimo target di Instant Fusion ma anche per magari sfruttarlo semplicemente per evocarlo rimuovere ed evocarci lui che è più grosso e ci aiuta praticamente a scombare o semplicemente anche per fare sincron quindi 4-2-6 con il nostro Drago Magno o caso che volessimo fare qualcosa un po' più forte e spai si gioca un re musicista che praticamente è sfrutto sia il Drago Magno per calare il mago di Arcanite che non è una carta da soldare secondo me all'interno del formato è forte e praticamente ci aiuta a togliere carte che ne so sia come il Decreto Reale ve la butto lì che dà un sacco fastidio a un mazzo trappoloso come questo o carte che magari vanno sopra i nostri draghi o qualsiasi cosa abbiamo paura di una settata è bello forte e perché non giocarlo qualcuno potrebbe dire eh ma cozza con il Drago Totem ovviamente la situazione è a partita a partita io non mi sono trovato affatto male anzi penso che giocando il Drago Totem mi aspetto diciamo di so come giocarmela intorno mettiamola così poi gioco il Catastore Drago Catena di Ferro Umbryonac Goio poi Black Rose e Antico Drago Fatato un Arcidemone Dominatore dei Pensieri che ero indeciso se giocare o meno nel senso che ero indeciso fra tre carte in particolare o giocare l'Armory Arm dato che abbiamo appunto il Drago Totem quindi fare 2-2-4 e avere diciamo più vite uscita caso che dovessimo trovare dei determinati ciccioni contro o semplicemente per chiudere giocare l'Arcidemone Drago Rosso essendo un Drago e un 3000 oppure giocarmi anche il Wurm però ora pensarci anche volendo mettere spazio per il secondo Chimeratek dato che i mazzi macchina stanno un pochettino spopolando nell'ultimo periodo poi vabbè il Colossal Fighter motivo anche per cui volevo giocare l'Armory Arm per fare la bastardata con loro e ovviamente 2 Star da Strego modestamente il nome del canale Fantastic Star da Strego che fai? non lo giochi? side deck gioco 2 Cyber Drago qualcuno mi ha chiesto se togliesi Drago Totem quando andavo a sidare Cyber Dragon sì e no nel senso che tendenzialmente tendo a lasciarne sempre uno di Drago Totem però la cosa che faccio è togliermi magari l'Istant Fusion dato che ho pensato ok magari il livello 5 me lo calo dall'extra deck magari il Cyber Dragon un po' più versatile però ovviamente dipende da match on match e poi gioco un Light and Darkness Dragon non lo gioco di main io lo giocherei tranquillamente di main ma c'è un problema che purtroppo esiste vaio turbo di conseguenza il dannato vaio nel cimitero può attivare l'effetto spam e noi siamo costretti a negarlo in continuazione purtroppo rimuovere non è parte del costo di conseguenza noi dobbiamo negare all'infinito e vaio può fare che cacchio vuole quindi diciamo è uno dei motivi principali per cui gioco questa carta di side e non di main perché quel dannato uccellaccio mi rompe in poi My Body's Shield che praticamente questa ora ci ho pensato mi ha fatto anche vincere contro l'Iceworn e soprattutto io la gioco anche contro Absolute Zero che non ci fa schifo insomma Absolute Zero è una delle carte più rotti all'interno del formato e questa è una delle maniere per counterarlo soprattutto in un mazzo come questo quindi io gioco personalmente My Body's Shield che giocherei anche volentieri a due ma non ho trovato spazio poi gioco due Nobleman che sono forti appunto contro tutti i mazzi Flipponi si ha anche contro l'Iceworn per l'appunto anche contro Costure di Tombe praticamente questa ecco l'ultimo game l'ho vista subito e io ho tolto tutte le spie e poi vabbè in generale è forte anche contro Crichetori Rico per l'appunto poi una scelta che potrebbe essere contestata io non giochi Dust Tornado ma gioco due Turbini perché gioco due Turbini praticamente la cosa che ho pensato è che caso che dovessi vedermi un Royal Decree in faccia non dico che questo mazzo perda ma potrebbe avere serie difficoltà caso che appunto non hai la mano adatta di conseguenza giocarmi questa contro anche una carta come Necrovaler o la Royal Oppression l'ho reputata un pochettino superiore in questo contesto non sto screditando il Dust Tornado ma per le intenzioni che ho io quando gioco mi trovo molto meglio con il Turbine ovviamente il Dust Tornado è forte contro le settate contro una potenziale Icaro mentre questa ma è forte appunto contro le scoperte quindi io ho pensato di giocarle contro Royal Oppression anche il Vortice degli Alanera la Necrovalle tutte queste cartine qui macrocosmo di fessura dimensionale preferisco giocarmi questa qui in caso anche di Royal Decree e un Fulmine Voltex che è stata un po' la quindicesima carta che ho aggiunto in Ex in Side scusate che avrei voluto giocare di main non ho trovato spazio ma mi trovo bene anche con lei di Side non ci fa schifo una carta forte ovviamente non c'è Dark Hall quello c'è in Guplant e Torre Ener mi fanno una poi continuando il gioco doppio oppression una delle carte sbagliate del formato Tripla Tirare il tappeto perché Monarch ci dà un sacco ma un sacco di problemi all'interno del del formato e diciamo di base non abbiamo il Veiler per negare certo potremmo mettere anche la catena demoniaca ma in Addison abbiamo carte anche come il Rottame Sincro i Monarchi che sono Kakakazzo il Debris Dragon quindi queste sono veramente forti e sono una counter trap soprattutto quindi difficile da negare e infine gioco il Ritorno all'altra dimensione che praticamente il motivo per cui si gioca questa carta io personalmente gioco questa carta è perché o ti aspetti un rilascio delle anime post side o quantomeno ti trovi i corvi di D che ti rimuovono non voglio dire il Red Ice quello grosso ma almeno le Viverne comunque qualcosina sempre per la rimossa che sia il Corvo che sia Soul Release che sia Prison o che sia il Bottomless quindi questa carta è utile anche per forzare determinate carte determinate giocate dell'avversario e poi chiudere all'improvviso evocando tutti i rimossi dal gioco quindi questa era la mia decklist Drago aggiornata ragazzuoli con le Warrior Lady ma anche con la versione Synchro Drago mettiamola così mi spiace che ed è vero che sto pubblicando un po' meno contenuti ma sono veramente tanto impegnato con il lavoro e anche sto cercando un po' di dedicare più tempo a me stesso mettiamola così sono molto aperto ma allo stesso tempo sono molto contento che su Discord siamo aumentati un casino siamo circa 70 persone quindi caso che appunto tu non sia unito al canale vuoi far parte della community trovi il link qui sotto ai miei social ma anche al server Discord in cui potrei fare domande sia agli altri o se vorrai direttamente anche a me in privato o appunto sul Discord come tu preferisci altra cosa è vero che magari potrebbe sembrare che nell'ultimo periodo stia solo dando un occhio a One Piece ma fidatevi che non è così ho tantissimi progetti in serbo per quanto riguarda la community Yugi che alla fine è quella portante del canale obiettivamente One Piece è un plus del canale un qualcosa di più che certo non mi dispiacebbe avere anche una community di One Piece però per l'appunto il mio focus principale rimane per l'appunto Yugi quindi ci tenevo a dirvelo e soprattutto spero di portare sul canale tutte le decklist che mi avete richiesto qualcuna la porta un po' più in ritardo però appunto è vero che qualcuna vorrei portarla in real poi le altre penso di farle sul dwelling book altrimenti è come se non facessi più video sia per procurarmi le carte quindi spreco un sacco di soldi sia non ne beneficia nemmeno il canale nemmeno voi da quel punto di vista il che mi dispiace io vi ringrazio per aver guardato il video fino a questo punto il prossimo video probabilmente sarà di One Piece con un unboxing di molti box appunto dell'ultima espansione però ci vediamo anche con una prossima decklist dei Yugi vediamo di farlo il più presto possibile quindi grazie ancora per aver visto il video fino a questo punto e ci vediamo al prossimo video see you next time